Uohohohohohohoh gotta che panorama che ore sono adesso? le 3 e un quarto ma che 3 e un quarto? ma le 2 e un quarto è avanti un'ora, ah è avanti un'ora 2 e un quarto, si si 2 e un quarto no l'1 e un quarto ma non può essere così va sicuro?